Attenti, presentati, onori ai caduti della Polizia di Stato. Anche Chieti ha radunato le autorità di tutto il territorio provinciale in occasione dei 171 anni della Polizia di Stato. Questa mattina la deposizione della corona di Alloro presso il cippo commemorativo all'interno della caserma Spinucci. Alla presenza del prefetto Mario della Cioppe del questore della provincia di Chieti, Francesco De Cicco, che ha spiegato il tema celebrativo, esserci sempre. Ci siamo anche quando non ci si vede, perché soltanto in questo modo possiamo diffondere quello che per noi è momento importante della nostra attività, la sicurezza. Alla comunità Chietina, che è una comunità sana, laboriosa, molto reattiva, dico di avere fiducia non solo nella Polizia di Stato, ma in tutte le forze dell'ordine. Perché soltanto in questo modo, soltanto con questo gioco di squadra, è possibile rendere più sicura la nostra città e usufruire di un bene prezioso che è la sicurezza. La cerimonia è proseguita al teatro, ma Ruccini ha visto la consegna di riconoscimenti agli agenti che si sono distinti con azioni speciali nell'esercizio delle proprie funzioni.